Ti sei mai chiesto quanto le tue vecchie stampanti costino realmente alla tua azienda? Quanto consumano? Quanto inquinano? Quanti soldi sprechi tra ricambi, smaltimento e manutenzioni sempre più frequenti? La soluzione? Noleggia le stampanti della tua azienda con GBR Rossetto. Innanzitutto spenderai meno. Come? Ottimizzando il parco stampanti in base alle tue reali esigenze per offrirti il meglio sul mercato in termini di prestazioni e risparmio energetico. E in più con GBR Rossetto stampi a colori al prezzo del bianco e nero. E l'usato? Ci pensiamo noi. Lo valutiamo, lo ritiriamo e in più te lo paghiamo. Non solo spenderai meno, ma farai anche un favore al pianeta con l'abbattimento della CO2 e delle polveri sottili generate dalle vostre vecchie apparecchiature. E se finisce il toner nel bel mezzo di un meeting importante? Impossibile! Perché con GBR Assist pensiamo noi a mantenere sempre in funzione le vostre macchine. Prima che tu debba sostituire i toner o i ricambi, provvediamo noi all'immediata fornitura e al tempestivo ritiro e smaltimento dei materiali esausti. E al numero verde sempre attivo il nostro personale specializzato penserà ad ogni altra cosa. Il tutto potendo usufruire di un finanziamento diretto con noi senza passare da banche o società di leasing. Collegati al sito gbr.it e compila il form di richiesta contatto. Sarai visitato da un nostro consulente. Oppure chiama il numero verde 800 853 853. GBR Rossetto e tu non devi far altro che stampare.